Marco, sì questo è un argomento, questo sostiene un bilancio su fronte dei principi contabili sinceramente è un argomento in cui giudicamente io non ho, ritengo che questo sia un argomento molto complesso, la mia risposta è molto semplice, il nostro bilancio è consolidato, un bilancio separato, un bilancio di interazione del gruppo sono legati nell'assoluto rispetto delle norme di legge, dei codici civili, dei principi contabili internazionali, delle istituzioni di banca in Italia e della Consolta, se ce ne abbiamo qualche altro, mettiamo, ce ne sono assolutamente tanti, che tutti i bilanci sono sosposti alla revisione legale dei conti da parte di società di visione internazionali, soggette a controllo di banca in Italia, della banca di visione.